Imprese al femminile, accesso al credito, fondo centrale di garanzia, Sonia Di Naccio, sono tutte problematiche di cui si parla oggi a Pescara? Sì, oggi stiamo affrontando il tema della sezione speciale del fondo centrale di garanzia del Ministero del Lavoro e delle pari opportunità che destina una somma interessante per le donne che vogliono fare imprese o per le donne che abbiano già un'impresa. Il fondo è interessante perché dà la possibilità alle donne che vi accedono di interrompere la restituzione del finanziamento per 12 mesi nel caso di maternità o di impegni familiari. Quindi ho prodotto pensato per le donne, tra l'altro la garanzia è al 100% data dallo Stato, quindi ad una donna non si chiede necessariamente la sottoscrizione del finanziamento da parte del marito, il padre, il fidanzato, il compagno. Noi stiamo lavorando su questo tema e stiamo cercando di fare in modo che i confidi abruzzesi e le banche abruzzesi possano aiutarci affinché si utilizzi il più possibile il fondo centrale di garanzia. Ciò che viene fuori in effetti è il fatto che in Abruzzo sono state poche le donne che ne hanno fruito finora. Il tema del credito, il tema appunto dei consorci fidi e via dicendo che sono temi assolutamente di prima linea per l'impresa italiana. Io credo che la classe imprenditoriale più che fare questo, più che porre i problemi veri e reali di questo paese e dell'impresa italiana al centro dell'attenzione, credo che di più non si possa fare. Tocca anche a qualcun altro dare una mano per risolvere i problemi. Noi, attraverso iniziative come queste del nostro CIF di Pescara, mettiamo appunto sul piatto i problemi che in questo momento in particolare attanagliano l'impresa italiana.